Il ruolo della fondazione? La fondazione è il braccio operativo della società scientifica che comprende quella che è la parte vitale della società, quindi il dipartimento di formazione e il dipartimento di ricerca. Questo perché? Perché nella mission della nostra società scientifica il fatto di avere un dipartimento di ricerca serve per cercare di dare delle risposte a quelli che sono i bisogni insoddisfatti della medicina interna, che sono tanti, sulla base della ricerca fatta su questi bisogni insoddisfatti, elaborare la formazione, questo ovviamente nell'ottica di cercare di dare la miglior cura possibile ai nostri pazienti e quindi la fondazione attraverso queste due anime comprende quello che poi è l'attività scientifica, culturale di formazione da parte della società. A livello europeo c'è una normativa che è sempre in evoluzione, Qual è il ruolo di Fadoi? Noi facciamo parte della società europea di medicina interna attraverso sia il presidente della fondazione sia attraverso dei delegati nell'ambito della società europea e per quanto riguarda la ricerca, cioè quella che è la normativa europea che è in fase ancora di sviluppo, non è ancora stata approvata, sicuramente Fadoi ha un ruolo importante in quanto è stata propositiva anche in alcune modifiche di quello che può essere il regolamento e anche attraverso quelli che sono i congressi, siamo alla quinta edizione dei congressi sulla ricerca che nell'ambito del mio mandato precedente, che era quello di presidente della società scientifica, per cui abbiamo fatto sia il terzo che il quarto, l'input che ci siamo dati, l'obiettivo era quello di arrivare ad avere dei decaloghi ma che poi avessero all'interno anche qualcosa che poi servisse dal punto di vista operativo per modificare, per cercare quantomeno di migliorare quelli che erano appunto le normativi in ambito di ricerca. Per quanto riguarda la formazione degli internisti, come cambia? Ma la formazione cambia in maniera radicale, nel senso che la medicina interna, che è la specialità più rappresentata a livello del servizio sanitario nazionale, in quanto gli internisti sono più di 10.000, la nostra società vede 3.000 iscritti, ma le medicini interne sono sostanzialmente in tutti gli ospedali. La professione cambia perché ormai all'internista, che è il medico che si occupa della persona e non della patologia, non della malattia, ma della persona nel suo insieme, deve essere fornita la capacità accanto a quelle che sono le caratteristiche classiche della medicina interna, quindi ovviamente dall'esame obiettivo all'anamnesi, all'approccio globale alla persona, ma diventa sempre più tecnologico. Quindi in realtà il compito della società scientifica è quello di cercare di formare in questo ambito tecnologico, che vuol dire quindi sviluppare l'ecografia internistica, l'ecografia bedside al letto del malato, ma anche quelli che sono gli aspetti di ventilazione. Sempre di più nei nostri reparti esistono strutture, aree dedicate ai pazienti che sono in insufficienza respiratoria e sui quali abbiamo un approccio di tipo più aggressivo rispetto al passato attraverso la ventilazione non invasiva e anche poi tutto il grande campo degli accessi venosi centrali. Quindi la formazione deve essere rivolta al modificarsi di quelle che sono le caratteristiche dei pazienti che seguiamo, quindi sempre con un occhio alla clinica, allo sviluppo delle competenze nell'ambito della multimorbidità e delle comorbidità, della complessità che via via è crescente con l'aumentare dell'età media, ma inserendo anche quelli che sono gli approcci più moderni e più nuovi come ho sottolineato dall'ecografia alla ventilazione non invasiva.